Ragazzi, guardate quanti XP! Madonna mia raga, stanno salendo a dismisura e non si fermano! Siamo già a 61.000 XP! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo con un nuovo video glitch degli XP di Fortnite in creativa. Il cadici della map è questo qua. Mi raccomando ricordatevi di metterlo dalla lobby e mettere partita privata. Vi ricordo inoltre che se non avete fatto XP nei giorni precedenti, in questo glitch sarà sempre più efficace per voi. Quindi vi darà veramente tantissimi, tantissimi XP. Dopo aver messo questo codice, ragazzi, andiamo a premere, giochiamo e ragazzi andiamo subito in partita. Una volta ragazzi aspettati i 50 secondi, dirigiamoci verso il centro, in questa maniera ragazzi. Mettiamo una scala, proviamo a saltare raga, non mi fa saltare. Ok, ecco fatto raga, ora mi fa saltare. Andiamo esattamente qui davanti, creiamo una scala in questa maniera, non premiamo niente. Andiamo qui e raga, balliamo per 1-2 secondi, in questa maniera. Dopodiché ragazzi, bisogna andare all'interno di questo posto, dirigersi verso qua, premere secret, scusatemi. E ci troveremo in questa zona, in questa stanza un po' secret, in effetti. Andiamo qui dov'è questa macchina gialla, premiamo su yellow, in questa maniera. E raga ci troviamo esattamente qua. Adesso raga, ciò che dovrete fare è molto semplice, create una scala qui, salite sopra e nella D ragazzi, you are the king. Ecco fatto raga, andiamo a premere you are the king. E dirigiamo orsi verso di qua. E magicamente ragazzi, ecco a voi, gli XP, raga, infiniti. Guardate quanti ragazzi, veramente tantissimi raga. Mi raccomando, lasciate un bellissimo like, perché questo qui ragazzi è il glitch che adesso sta andando meglio di tutti. Detto questo ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo like, in un prossimo video. Mi raccomando, raggiungiamo i 50 like per un prossimo video glitch e noi ci vediamo. Bella raga, ciao!